Un gruppo di ladri ha svaliggiato il negozio di abbigliamento Calabro nel centro di Canicattì. L'episodio si è verificato la scorsa notte, quando i malviventi avrebbero sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento nel centro del comune in provincia di Agrigento. Gli uomini si sarebbero intrufolati e nel giro di pochi minuti avrebbero portato via, a bordo di una fieppanda, capi di abbigliamento griffati generando notevole danno economico. Tempestivamente sarebbe scattato l'allarme, ma i ladri sarebbero riusciti a fuggire facendo perdere le loro tracce. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il presidente del Consiglio Comunale di Canicattì, Mimmo Licata, intanto, nell'apprendere lo spiacevole episodio, ha espresso la piena solidarietà ai titolari e a tutti i dipendenti, denunciando i vari atti di criminalità che stanno sfociando, racconta Licata, in una situazione emergenziale.